Alessio Iseia del team Full Tilt ha premio nel pot limit omaca da 10.000 dollari con i più grandi giocatori del mondo. Io davo un'occhiata, vedo lì che c'è Duan, poi Filelmuth, poi quella gente lì. Beh, cosa mi conviene? Eh, diciamo che oggi non ho avuto un bel tavolo, sicuramente il field già è molto duro di per sé. Poi al primo tavolo avevo Duan, Benjamin, Lisandro, Elie Lezra, David Becker, quindi erano tutti buoni giocatori. Poi alcuni di loro sono stati eliminati, siamo sopravvissuti io e Duan da quel tavolo. E comunque sì, in tutti i championship, in tutti i 10.000 championship di tutti i giochi, quale World Series, Stad, Stad, Ilodius, 2-7, il field è comunque difficile perché col buy-in più alto ovviamente si iscrive, mediamente chi è più capace. Però questo qui in particolare siamo arrivati alla fine con un numero notevole di buoni giocatori. Quante chip hai? Qual è l'everage? Beh, ho chiuso dopo montagne russe 443.000, con la media 300.000, circa 33-32 giocatori rimasti, non so di preciso. Quindi in ogni caso ho più o meno la media dei 20-22 giocatori rimasti. Comunque vabbè domani i bui saranno 4.000, 8.000, quindi sarà tutto un altro torneo. Ormai siamo arrivati a premio e quindi giocherò per vincere. Giocavo per vincere anche prima di arrivare a premio, però ormai senz'altro la darò tutta. Quanto prende il primo? Il primo prende attorno agli 800.000 dollari. Che quota ha il tuo compagno di squadra Claudio Rinaldi? Il 10%. Ah, ti ho visto che ti seguivo con attenzione. Era interessato, sì. Anche se il primo, a parte gli 800.000 dollari, sarebbe bello per il braccialetto e per tutto quel che ci sta attorno, anche per i soldi, però il primo è sempre difficile a fare prima. Intanto spererei già di arrivare al tavolo finale e poi ovviamente, come ho detto, gioco per vincere, però già sarebbe il primo obiettivo, visto che quest'anno ho già fatto un dodicesimo, altri due indemani, quindi non è che mi interessa molto un altro piazzamento. Mi piacerebbe vincere, però come piace a tutti. E' un po' di più.